Tu mi racconti di come questa storia del Lago d'Orta, che poi magari parliamo un po' dell'acqua e dell'acqua, di quanto influenza il lago nelle scelte dell'azienda. Il Lago d'Orta era una terra di estrema immigrazione negli anni tra le due guerre mondiali, se non sbaglio. Perciò tanti ragazzi che non trovano lavoro lì se ne sono andati e hanno trovato fortuna da altre parti, tra cui i nonni tuoi, i bisnonni tuoi. L'idea aziendalmente parlando di riportare valore aggiunto al territorio, di produrre il più possibile materiale in Italia. Noi abbiamo una filiera controllata, non dico del 100%, ma del 90% di prodotto italiano. Ma l'altra cosa che a me piace molto è il fatto che il prodotto venga prodotto quasi tutto lì sul Lago d'Orta. Perciò dando a un territorio non solo la bellezza attraverso alcune ristrutturazioni immobiliari, l'hotel, la fabbrica bella, ma anche attraverso dare lavoro al comprensorio e al territorio. Questa è un'altra di quelle cose che poi lega l'idea del...